Perché si è discusso d'altro in questi anni, il focus è stato sempre su questi problemi. Ora non voglio essere disfattista, però insomma fare il bilancio di questi anni di governo, non abbiamo una politica industriale, abbiamo una politica economica che è fatta esclusivamente di tagli, non c'è una politica fiscale con i decreti legislativi sul federalismo, si sta rendendo incomprensibile e sempre più esoso il nostro sistema, è confuso il nostro sistema fiscale. Non abbiamo una politica sociale, né una politica del lavoro, insomma mi pare che siamo, e non parliamo poi della scuola, dell'università, della cultura, della ricerca, insomma il governo è stato occupato a pensare troppo ad altro, mi sa, e le stesse politiche tremontiane sono state politiche che riducevano il danno, ma che non hanno avuto un elemento, un punto d'appoggio per tornare a far crescere l'Italia, cosa di cui l'Italia avrebbe un grande bisogno data la crisi economica che l'attanaglia come attanaglia gli altri paesi.